Quindi FONTE? VIVO CAMERAAAAAAA CHEDA SUBITO CAMERA Allora ci vediamo la play fra due secondi Vado e accendo Vado e accendo Vado e accendo Vado e accendo Diamo amore, non mi accorgo di stare riferentato Dai boh, ti amo? Voglio dire la poesia Non la conosco Caro mi fugo esterno al collo Mi chiamo Federico Pilati E sono un figo Vada al mare E c'ho i denti carati Allora, camera, io qua leggo 4 a 3 per John Briggs Quello con la J però Quindi qua dicevano da 3 a 2 a 4 a 3 per John Briggs Ma o che leggo male o sono troppo forte Barbo Topa da bagna Topa da bagna Oh, 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 oh Comunque un autobus pieni da Napoletani Niccolò Eschick, una bella bomba ...se la si può tirare su su è un audio però ho fatto video messaggio grande melone grandissimo mello mello ascolta me allora ero qua che facevo sta un ride porco dio e mi ha dato di nuovo l'errore uguale a ieri e vedi se riesce a scoprire che cazzo devo fare perché qua a mello io sono senza i ride cancello sta cazzo di poco comunque che mi arrugia i coglioni e mi sto facendo solo il bestemmiare e noi siamo qua lavorare e tu sei in spagna non fai un cazzo anche a casa non fai un cazzo scusa è qua c'è scritto sto andando alla visita di lavoro porco dio altro che figa magari figa a proposito di figa ce non è male camera ma allora la roba calcetto la dobbiamo portare no porco dio manca minuti lo voglio fare così dio boe si corre a prendere subito a me no per me fate schifo entrambi acqua acqua camera andiamo andiamo in fronte che sono già qua io avvertiti avvertiti ehi sono quel difensore paletta saluta eccolo forza milan ehi camera ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono Fabi c'è e chi se ne frega eh eh si lavora molto si lavora molto verso di si si e li vado a fare la benzina e si l'amo sono monstro sono monstro la sessa muta 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 ma ha è è è Sì